Sinceramente io sono andato forte sulla ribattuta, mi sono sentito venire addosso da dietro e mi sono buttato, secondo me c'era, poi l'arbitro non se l'ha sentito evidentemente. Mi spingono, mi sono buttato. Sì, secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, comunque sia li siamo andati a prendere alti senza paura e li abbiamo messi in difficoltà perché loro lanciavano sempre la palla lunga. E sì, negli ultimi metri comunque sia manca quella giusta cantiveria per fare gol. Sì, secondo me non è solamente un problema di attaccanti. Sicuramente noi siamo stati presi per fare gol e purtroppo per un attaccante è dura non fare gol. Quindi un po' la stiamo soffrendo però il mister ci vuole far sempre stare tranquilli perché dice che prima o poi il gol arriva. Sì, è nato tutto, secondo me a Bastogirardi quando sono entrato e siamo rimasti in dieci. Allora il mister mi ha spostato mezzala e comunque sia secondo me mi sono comportato abbastanza bene. Il mister il martedino all'eamento mi ha detto che secondo lui potevo fare quel ruolo o mezzala o quinto. Allora mi ha provato e ha visto che comunque sia ci posso stare e mi sta provando lì. Comunque sia non l'avevo mai fatto la prima volta e sta andando abbastanza bene. Io mi sento bene, mi sento bene e mi metto sempre a disposizione del mister perché un giocatore si sa, vuole giocare ovunque lo si mette, uno cerca di dare sempre il massimo.